Questo è Bass Shop Bolzano, Mr. Boma, due di picche. Un saluto agli amici di Google Rap, mi raccomando fateci un giro, c'è tutto l'hip hop nazionale, meglio del meglio, lo trovate su googlerap.com, un saluto anche agli utenti di googlerap.com, e mega marchetta per il negozio, passateci a trovare qua a Bolzano, Bass Shop, trovate noi due su un gagnone qua che vi aspettiamo. Questo è 37 e nonostante tutto ve lo beccate su googlerap.com, bella, un saluto. Bass Shop Bolzano, due di picche, Mr. Boma, vabbè rifamolo. Bass Shop, no, non c'è un cortilista, non c'è.